Ho fatto sì un'opera a tema erotico, ma di sicuro non volgare. Un'opera complessa, ma diciamo come linguaggio musicale è molto accattivante per il pubblico. Sono Lorenzo Mazzucchelli, sono il basso di questa produzione, interpreto il Duca. Per realtà i personaggi fondamentali sono il giudice, il duca e il capo dell'hotel. Ciao a tutti, io sono Amelie Hoyt, sono qui il soprano leggero, il soprano di coloratura in questa produzione. Ciao, mi chiamo Irina Bagdanova, faccio il ruolo della Countess of Argyl.